Salve carissimi amici di Tutubi, sono Francesco, benvenuti nella settimana di Camera Mio, benvenuti se la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo del Thor di Jason Aaron, in particolare della serie Thor, scritta da Jason Aaron per i disegni di Russell Dauterman, serie che fa da collegamento tra Thor e il Dio del Tuono, dove avevamo Thor, il figlio di Odino, come assoluto protagonista, questa serie qui che ci introduce ad un nuovo personaggio, alla nuova, alla nuovissima Thor, e che poi sarà la protagonista saluta della potente Thor, di cui parleremo nei prossimi video. Quest'oggi parliamo di tutti questi otto spillati che si trovano nella collana Thor dal 194 al 201, se consideriamo la numerazione complessiva di tutta la serie, dall'1 all'8 per la serie singola Thor per l'appunto, raccolta da panini anche in due cartonati che non ho, ma vi parlerò di tutta la serie. Quindi anche, insomma, di tutti e due quei cartonati lì, visto che comunque è una storia unica, nei fatti è una storia unica, né più né meno. Divise in due volumi, un pochettino per comodità, un pochettino per praticità, visto che sono otto numeri più uno speciale annuale, grande come due numeri, quindi, ecco, a livello di cartonati aveva il suo senso fare due volumi divisi. Ma a livello di video, per me, non ha alcun senso fare due video divisi. Che cosa occorre conoscere per poter apprezzare appieno questa gestione? Partiamo da questa domanda qui, che è più che legittima. Nonostante, leggendo questa gestione qui, sì, avevo letto tutto il Thor di Odeltuono, avevo letto tutto Original Sin, ma l'avevo comunque apprezzato... cioè, secondo me si può leggere e apprezzare comunque, visto che comunque le nozioni vengono date al lettore. Ma, se vogliamo essere fiscali e rigorosi, occorrerebbe leggere tutto quello che Jason Aaron ha scritto in precedenza. Questo perché analizziamo qual è lo status quo attuale, parlando proprio dei vari story arc antecedenti a questo. Partiamo da Original Sin. Original Sin, macroevento Marvel, a seguito del quale succede un determinato elemento, rimango vago, così che chi non ha visto il video su Original Sin o non ha letto l'evento o vuole leggerlo, può leggerlo comunque senza alcun problema. Rimango vago su cosa succedere nell'effettivo, ma ad un certo punto Thor diventerà indegno, non sarà più degno di impugnare il martello Mjolnir, che quindi rimarrà sulla superficie lunare, là dove si sta svolgendo uno scontro di Original Sin. Thor non riuscirà più ad alzare il suo martello, sarà del tutto impossibilitato a rialzarlo, ed è lo status quo più evidente, quello che poi porterà una ragazza, una donna, ad impugnare il martello e diventare la nuova Thor. In aggiunta a questo, il tie-in di Original Sin, intitolato Il Nuovo Mondo, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, ci mostrava il ritorno di Odino e di suo fratello Kul, entrambi figli di Bor, mi sa che nel video scorso ho fatto confusione, ho chiamato Kul Bor, quindi mi scuso per chi, nei commenti qualcuno sotto mi aveva scritto che non capiva bene che cos'era successo, probabilmente ho sbagliato a dire, a parlare nel video, quindi si chiama Kul, il fratello di Odino, entrambi sono per l'appunto figli di Bor, e ritornano dal loro esilio forzato, anche perché Asgard, Asgard è la città dorata di Asgard, e ritornerà sul piano di Asgard. Questo qui lo vedremo decisamente meglio nella serie La Potente Thor, ecco, non sarà più sulla Terra come era in precedenza. Non sarà più sulla Terra a seguito degli eventi degli ultimi giorni di Midgard, dove abbiamo avuto lo scontro tra il figlio di Odino e la Roxxon, guidata da Dario Hager, una persona in grado di trasformarsi, per qualche misterioso motivo, in un minotauro e che comanda una delle più potenti e influenti multinazionali, che però fa del petrolio, della violenza, del crimine, dell'uso sconsiderato delle risorse della Terra il suo punto di forza. Insomma, più si accumula, più si distrugge, più si macina, più loro guadagnano, più inquinano l'ambiente, più loro guadagnano, quindi hanno tutto il vantaggio da questa cosa qui. Ed è effettivamente una forte critica che Aaron muove con fronte delle grandi multinazionali che non salvaguardano l'ambiente, ma anzi ce lo distruggono sempre sempre di più. Ma, ovviamente, la Roxxon sarà assoluta protagonista perché nell'ultimo numero di Thor, il Dio del Tuono, avevano trovato negli oceani un misterioso teschio, il teschio di Laufei, il padre di Loki. Teschio che desiderano gli abitanti di... gli elfi, scusate, gli elfi, i giganti dei ghiacci, che attualmente sono alleati di Malekita, che a seguito degli eventi del dannato, il secondo Storiarch di Gesonaron in Thor, il Dio del Tuono, si era liberato da... era stato liberato da Hel, era diventato leader, nuovo capo, a seguito di quegli eventi degli elfi oscuri, e stava cercando alleati, tra cui aveva trovato come primi alleati, tra l'appunto, i giganti dei ghiacci, per poter affrontare... per poter portare guerra, effettivamente, ad Asgard. E questo è quindi quello che più o meno bisogna conoscere per poter iniziare a leggere questa nuova Thor. Non vi ho parlato del macellatore di dèi perché nei fatti non è così fondamentale leggere quella storia per poter comprendere appieno gli eventi di questo Storiarch, nello specifico. Chiaramente dei rimandi ci saranno, soprattutto nella potente Thor e nelle serie che verranno. Non aggiungo altro per non fare spoiler, probabilmente quando sarà il momento di parlarvi di quelle serie mi dimenticherò che c'era quel riferimento là, però, ecco, sappiate che anche il macellatore di dèi ha la sua importanza in tutta la gestione di Gesonaron. Forse vitale, di vitale importanza. Questa serie qui a me è piaciuta tanto, e forse tra le serie di Thor che ho letto finora, cioè tra Torilio del Tuono, Thor e la potente Thor, di cui vi parlerò prossimamente, è forse la gestione che mi è piaciuta di più. Questo perché? Perché il personaggio nuovo introdotto, la nuova Thor, è un personaggio intrigantissimo, un personaggio di cui anche il lettore non conosce l'identità e infatti giocherà insieme agli altri personaggi della vicenda cercando di scoprire chi si nasconde sotto l'elmo, sotto la maschera della nuova Thor. Ed è già una cosa estremamente piacevole, ma di lei ne conosciamo i pensieri, ne conosciamo i pensieri nel corso della storia, pensieri che ci mostrano quanto sia bello impugnare il martello di Thor, Mjolnir, e provare quei sentimenti che, insomma, ti rendono capace di usare il potere del Dio del Tuono. La prima parte si focalizza esattamente su questo. Lei impugna il martello per poter salvare la Terra. Avremo infatti una situazione per cui Malekith attaccherà la Terra per ottenere il teschio di Laufei dalla Roxxon, per poter proprio prendere. Thor interverrà, il nostro Thor, il figlio di Odino, interverrà senza più il suo martello, ma con la sua ascia, Jarajoborn, che abbiamo visto ai tempi di... il maceratore di Dei, quindi in realtà il maceratore di Dei torna anche in questa serie qui, impugnerà la sua ascia e cercherà di affrontare Malekith per poterlo fermare. Ma qualcosa andrà storto al punto che Mjolnir chiamerà aiuto, chiamerà un nuovo eletto, se vogliamo, un nuovo perscelto, un nuovo degno di impugnare Mjolnir ed avere i poteri di Thor. Una donna, in questo caso, che partirà all'attacco e che grazie a Mjolnir, per l'appunto, cercherà di affrontare la minaccia di Malekith. Minaccia di Malekith, che imperverserà, vedremo, sarà veramente una minaccia piuttosto lunga e non si concluderà all'interno di questa serie qui. Anche se qui cominceranno i primi sconti tra la nuova Thor e Malekith. A seguito quindi di questa prima parte, anche molto bella, col primo volo, i primi tentativi, le prime esperienze della nuova Thor col martello Mjolnir, avremo poi una seconda parte dove il re di Asgard, Odino, deciderà che non gli sta proprio bene nella situazione per cui il suo figlio non è più degno di essere ciò che dovrebbe essere di diritto di nascita e non avere più il martello che gli spetta come retaggio. Ed ecco che chiederà aiuto e sostegno a Vor per poter affrontare, sconfiggere questa nuova Thor. Anche qui è tutto il gioco del dico e non dico, vedo e non vedo, per poter cercare di capire chi sia effettivamente questa nuova Thor con tanto del figlio di Odino che indagherà a sua volta, una indagine che condurrà come un vero professionista per cercare di individuare chi, quale donna potrebbe essere degno in questo momento in cui lui non lo è più di impugnare Mjolnir. Nell'ultima pagine scopriremo la verità. Noi lettori sapremo chi si cela dietro la maschera della nuova Thor, della potente Thor e sarà un colpo di scena piuttosto inaspettato visto che, non aggiungo altro, non aggiungo altro visto che comunque è un personaggio noto ai fan del mondo di Thor, un personaggio su cui si può per l'appunto indagare per cercare di scoprire chi sia tra i tanti personaggi di cui l'universo di Thor è pieno. È stranamente pieno di personaggi femminili, ma noi fino all'ultimo veramente avremo il dubbio di chi possa essere. Quindi è anche una cosa giostrata e giocata molto molto bene. Ve la consiglio questa serie? Maledizione sì. È, secondo me, il punto di picco, secondo me, di Gesù Naron. Probabilmente quando rileggerò la potente Thor troverò dei picchi molto interessanti anche lì. Ma in fase di prima lettura e anche in fase di rilettura, perché in questo momento la sto rileggendo, l'ho apprezzata veramente tanto e consiglio veramente, potrei consigliarla veramente a chiunque, perché è tremendamente piacevole sia da leggere sia da scoprire con questo proprio gusto della scoperta dell'avventura che c'è nella primissima fase di questa gestione fino alla conclusione con questo svelamento finale che ti lascia con la voglia di sapere come va avanti, che cosa succederà ai nostri protagonisti. Questo è quanto avevo da dire per questa potente Thor. Quindi il video si potrebbe chiudere qui, ma giusto una notizia tecnica per i video che verranno in futuro. Sicuramente cercherò di alternare i video degli spillati ai video con la saga del tuono, parlando però dei singoli story arc. Quindi mi vedrete attivo praticamente ogni settimana con video su Thor nelle prossime settimane, perché voglio completare il prima possibile questa gestione di Thor per poter arrivare con Legacy, nel caso in cui seguirò ancora la serie con Legacy, finché non arrivo nei sommari non lo posso sapere, però ecco, parlarvene in contemporanea come faccio con gli spillati di sì. Ecco, quindi esce lo spillato di Thor, lo leggo e vi parlo del singolo spillato come sto facendo attualmente con Batman, Justice League e Flash. Quindi ecco, mi vedrete piuttosto attivo con Thor nelle prossime settimane fino ad arrivare ovviamente al punto di pareggio. Sicuramente ci sarà il prossimo video dovrebbe essere su per Asgard, poi arriverà Thor's e non so quanti video ci saranno sulla potente Thor, perché se non ricordo male dovrebbero esserci almeno tre story arc, quindi c'è parecchia roba, c'è parecchia carne sul fuoco, ma vedo se due, mi sa che primo e secondo story arc tutto sommato sono così talmente tanto interlacciati che ve ne parlerò come se fossero uno story arc unico. Questo è quanto avevo a dire per oggi, qui sotto nello spazio dei commenti ditemi la vostra, avete letto questa serie di Thor, che cosa ne pensate, vi è piaciuta, non vi è piaciuta, l'acquisterete, non l'acquisterete, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, qui dalla soffitta di camera mia non più in soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao! Ciao! Grazie a tutti